in questo video vi farò vedere come associare un telefono al blu e media appunto schiacciamo questo nel menu vedete ci esce ultime chiamate disponibili sono lettore messaggi impostazioni media play possiamo fare anche invia vocale impostazioni impostazioni i comandi disponibili sono dati utente registra utente o annulla registra utente registrazione ok e noi dobbiamo andare dal nostro telefono il pin è 3989 andiamo sul nostro telefono cercare con il proprio dispositivo il sistema blu e mi inserire il codice fin visualizzato attiviamo il bluetooth e cerchiamo la voce blu e mi ok 39 89 ok vedete che adesso è connesso connessione in corso infatti qua ci dà il modello di questo telefono adesso dobbiamo andare a sincronizzare la rubrica benvenuto per utilizzare la rubrica è necessario copiare i contatti sulla vettura continuare? si copia in corso in questo caso in questo telefono non c'è la richiesta andiamo a chiamare il 119 pronunciare un comando o dire aiuto chiama pronunciare il nome o dire chiama numero chiama il numero prego 119 chiama benvenuto nel servizio clienti team ricordiamo che la chiamata è gratulia questo è tutto se vi è piaciuto questo video vi è stato utile lasciate un like e iscrivetevi al mio canale al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti